Allora, io si do la ricetta del couscous col pesci. Facciamo prima l'olio, poi si mette un po' di borgura come il pomodori, una fresca, quello concentrato, poi si mette anche i ceci, carote e patate, poi si mette un po' di acqua, quando che bollite si mette il pesci. All'altra parte si fa il couscous con un po' di acqua calda, e poi si mette il couscous tutto sopra quella sugu. Quando chi non prende tanto tempo perché c'è il pesci, cogero subito. Allora, fra 20 minuti, poi si mette il couscous e mi bagno con tutto quello sangue, con la sugu, e poi si mette il pesci e la ricetta. Tutto quello, non è difficile.